5 passeggiate di Don Bosco per scoprire i luoghi del Santo Sociale nel bicentenario della nascita. Le propone la città metropolitana di Torino in collaborazione con i comuni che, insieme all'allora provincia, hanno dato vita alcuni anni orsono al progetto delle strade di colori e sapori del Chierese e del Carmagnolese e al Cammino di Don Bosco, un itinerario nei luoghi in cui il giovane sacerdote nacque, crebbe e operò. Le passeggiate propongono escursione di una giornata con animazione teatrale in cui si alternano tratti percorsi a piedi e tragitti in pullman. Domenica 22 marzo l'itinerario tocca riva presso Chieri, paese natale di San Domenico Savio, buttigliera d'asti e si conclude a Castelnuovo Don Bosco. Domenica 12 aprile ci si ritrova al Valdocco per scoprire i luoghi della Torino ottocentesca in cui Don Bosco curò l'educazione e la formazione della gioventù. Domenica 26 aprile si va a Superga con la Cremagliera, poi a piedi sui sentieri dal Baldissero Torinese al Bric e Paluc, si pranza a Marentino e si prosegue per il Colle Don Bosco. Il 31 maggio si visita l'Istituto Valsalice, si cammina verso l'erimo dei Camaldolesi e Pecetto e si visita il Centro Storico di Chieri. Domenica 7 giugno si va da Torino a Cinzano e Moncucco, si visitano l'Abbazia di Vezzolano, Castelnuovo Don Bosco, Mondonio e il Colle Don Bosco. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l'Ufficio Turistico di Ivrea dell'ATL Turismo Torino e Provincia, telefonando al numero 0125 618131 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si può anche mandare un'email a info.ivrea.turismotorino.org.